Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Inoltre ragazzi, con tanta felicità vi volevo annunciare che a gennaio ci sarà l'annuncio del team europeo alla quale sono entrata. Quindi ragazzi fidatevi, preparatevi che ne vedrete davvero delle belle. Ti lascio qua i due scillini. Io non ci sono uno, TTV topflex. Sorry brada. Il mio nome è bronzino. Mi facevo il damage. Every fucking day. Ma che c'era alcuni via, guarda, veniva ancora. Ti danno una mano, proprio. La prima volta che l'ho presa, ho subito full damage. Eh, il mazzo, che mira. Vai, pallone! Dove sto tipo? Sovra. Guarda, le smusse! Ho preso solo l'Itac, o sì, accanto. Mamma mia, questa parola è smusse. Quante chi là parola è smusse? Non vedo le kill, ma what the fuck? E qui là è palo. Non ti interessa. Ne hai una, lo so che ne hai una. Ma c'era zile in vieni. Beh, vuol dire... Alexa? Ehm, bende, sparano i ragazzi che mi sparano. Ehm, capisco dove stanno. L'ho rivisti. Ah! Ah! Il brutto è scomparito. Hai ragione. Però da gente. Si fa volontari, perché il volume della zona era troppo alto. Eccoli, eccoli, ragazzi, timide. Dove le peoples? Guarda me. Guarda me. Guarda due blu. Ragazzi, uno, io ho fatto 120, eh? È una tonnina nuda e rossa. Io ho fatto una granata un clonio. Hanno riftato? Hanno riftato. Fatta malissimo? Oh, ma io già sanno. Ma va? Io cerco lì più a rift. Perfetto. Non ci sono uno? Mi hanno riftato in testa, mi hanno riftato. Io l'ho più da dietro. Cioè, provo. Uno è scappato con la jump. Andate al blu. Ok, uno di loro io l'ho ammazzato. Ok, ragazzi, chi vuole uno scar? Uno è scappato con la jump. Chi vuole uno scar? Vabbè, poi io che ho l'R bianco. Ok, è un'altra. Voto a porto, fratello. E chi mi aspetta un po'. Vieni, ho avuto a terra. Buono, grazie. Ragazzi, comunque sono anche sulla montagna. Ok, sono notato. Ma perché? Non volevo proprio le smg, però. Io non c'è colpi bomb. Eh, io ne ho quattro. Cazzo, sto morendo. Morto, morto, no? Eh, ho appena fatto le bronze senza ha-ha. Eh, ho appena fatto le bronze, cazzo. Non va bene le bronze, no? Come hai fatto appena le bronze, no? Eh, mi bronzi. La serata 1? Quanto è broken? Comunque la k bronze 4-2. Non so se ti piace la k ma... Ma, salti, spari, sciogli. Ma dai, ma con l'aereo! Marti, c'è proprio ragione, o aerei di merda. Aerei di merda? Eh, quando lo dico io, bro? Eh, hai ragione, sì. No, 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 c'è la mamma è davvero brava, tu. Brava. No, porco tu no, invece. Ti finisci? Ti finisci tutta la pappa. Eh, sì. Cosa è capito? No, no. Marti, quando fico il game, ti devi... Vai, lui, è quello, lui, quello con la mamma un po' papà. Unlucky. Sto platinando, non è nato niente. Ora, mostra di destra. Minchia, c'ho 10 bombe, oh! Prova a cracciare, che... Ma, se non c'è la play, eh. Ma, ma... Allora, intanto... Ti devi calmare. Allora... Devo attivare... Modalità... Farone smooth. Eh, con la mia... Ma, ma che fai? Faccio morire. Perché mi sparano là dietro? Eh, non va bene il salato, ragazzi. Ti sento piccolo in ceso. E poi di dietro, eh. Eh, anche lui ha ragione. Uno, io lo attaccheresti, uno di dietro così. Ah, eh! Non si dice. Non farei porco, no! Non farei porco, no! Ciao, bella pecorina. Mmm, ora, bella. Oh, però me stai a rompe, eh. Grazie. Dai, calma. No, 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 no. Non ti ho speso la pamba, tranquilla. No, 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 no. Vai, Marti. Buttaci ste venti bombe. Ci si prova, brother. Raga, dov'è il primo che ho ucciso? Che c'era... C'era gli scudini. Devo prendere quegli scudini. È morto. Era tipo qua, no? Sì, più sono. Ma mi stanno facendo in quanto? Scusate. Non so quanto posso essere morto a prendere un rampino con tre così, ma mi stai tirando lo stesso. La pompa nuova non la prendi? No. Non mi piace per niente. Brava. Anch'io è troppo lenta per fare solo dieci in più di danno. Cioè, perlomeno per me. Come here, boy. No, 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 no. Ok. Come non voglio venire di fall damage e fare le bronze? Perché voglio bere le bronze. Ovvero imitarmi prima, come... Siamo in sicuro Aufgabe. E poi, mi passiamo in base a questo game, la bronze? Dai, su. Eh! Ma, vabbè, in teoria, se un team da quattro contraventi bombe le fai tranquillamente. non mi interessa vincere dov'è ammetti? si è più ripresa 200 veleni oddio non hanno la safe ragazzi e ma il bello è che se lei vince non vince due game con un team me ne becco altre 300 qui deve sperare che muoia Martina muori no 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 non fai questo tranquillo sto gufando io possiamo muore o se la prende tu? lol che ti ha missato? questo con palloncini guardate un attimo muori what non lo so guardare più di quanto è gg where is win where is win gg gg e sauro sopra gg 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 gg